Bello a tutti ragazzi qui è Giove360 e ben ritornati nel mio canale oggi siamo qui con il primo episodio di The Walking Dead Ho comprato sia l'arma stagione sia la seconda stagione perché mi avete consigliato in tantissimi davvero mi avete consigliato di farla questa serie su The Walking Dead E quindi eccoci qua Io sinceramente ragazzi all'inizio non è che ci avevo dato tanto peso perché avevo visto tantissimi commenti però non era un gioco che mi interessava tanto Poi neanche a farla apposta, il destino proprio Ho acceso la Playstation, sono andato sul Playstation Store C'era in grande la pubblicità, risparmio del 60% The Walking Dead prima stagione e seconda stagione Ho detto vabbè è destino che devo farla e quindi le ho prese Scondo del 60% e quindi diciamo che mi è andata abbastanza bene E iniziamo con The Walking Dead Non so assolutamente nulla, nulla Quindi vediamo un po' allora Cos'è sta roba? Spegni i suggerimenti e gli aiuti? No no no, metti i suggerimenti Eh sì, metti i suggerimenti perché sennò qua non riusciamo più Episodio 1, un nuovo giorno Iniziamo, ah qui posso andare a destra e a sinistra Episodio 2, quanti episodi sono? Non lo so ragazzi, vi giuro che non so nulla Ah c'è anche l'episodio speciale 400 giorni, ok perfetto Perfetto, so che è un episodio speciale perché l'ho visto da galgo però non so assolutamente nulla Quindi iniziamo subito, come sempre ragazzi 100 like, 100 like se volete il prossimo episodio di The Walking Dead Ma sono quasi sicuramente, sono quasi sicuro di portarvelo perché Questa serie è adatta alle scelte che fai, la storia è adatta al modo in cui tu giochi Ok, e questa cosa mi spaventa parecchio Però iniziamo Stavo dicendo, quasi sicuramente porterò tutta quanta la seconda stagione perché lo acquistate Scondo del 60% e quindi ne ho detto vabbè Chi se ne frega, si vive una volta sola, giochiamo a The Walking Dead e vediamo un po' con me Quindi iniziamo subito insieme ragazzi, insieme Un episodio non so quando farlo durare 15 minuti? Non lo so, non lo so Episodio 1, un nuovo giorno, senza tagli ragazzi con la maglia di Ron Ci fa accompagnare a Just Ron e iniziamo Uff, è come se fosse un film, quindi vediamocelo insieme Non ho mai portato questa specie di gioco sul mio canale e sinceramente non ci ho mai giocato Spero che ci siano i sottotitoli perché davvero sennò qua è finita Parlate così vedo se ci sono i sottotitoli Ah ok, bene Che non sia stato tu Sai come si dice Ah eh, però davvero sta messa a scelte Sai come si dice, va Non da me No, è una cosa assurda No, però dico ogni volta Ok, si legge imbarazzante Usa le vite adesso per dare un'occhiata in giro Oh bello Ok Ora punta lo specchietto Ah proprio lo sguardo negli occhi Ok Mamma mia Non ho capito cosa hai detto Ah ok Allora sei lì ma Dunque è un'opinione Ok Ok Io non so se adesso si dice qualcosa perché C'ho l'audio a zero Magari qualcuno che l'ha giocato fatemi sapere ragazzi Ho un nipote alla UGA No ragazzi però Sono al sesto anno Però dai Vanno troppo veloci Hai conosciuto Ma certo Ma certo Posso muovere qualcosa Oppure lei ha sposato il tipo sbagliato Ok E adesso non so quando queste risposte ne possono Influire sulla storia Però boh Intanto chissà che cosa Che cavolo sta succedendo ragazzi di là Perché sta succedendo il mondo mi sa Finimondo sta succedendo Non so se non non fulminarlo si mammy che cosa ne frega adesso sto zitto non dico nulla guarda qui no però c'è tu non puoi raccontarmi tutte cavolate aspetta no non ho detto un attimo c'è poca miseria comunque penso che non ho visto chi è ragazzi non ho visto solo una sagoma nera non ho visto chi è ok non sto capendo già niente però non ho fatto neanche il tempo a dire non stavo guardando la strada ah comunque devo dire meno male che siamo sbattuti fuori così almeno non ci dobbiamo subire tutte quante le storie di questo qua chi se ne frega mamma mia però ci sta dai ci sta ci sta come inizio non so quando farli rugare non so quando farli durare questi episodi una quindicina di minuti forse non lo so 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 poca miseria aspetta aspetta usare vetta a destra per guardarti intorno e trovare un modo per uscire dall'auto eh mi sa di no mi sa di no con la striscia di sangue non la vedo tanto bene allora questo un fucile merda allora con ca oh le li 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 ok boom 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 dai un calcio dai dai ancora dai ok però tu c'hai la gamba rotta amico non lo so ah devo muovermi io ok via via ma c'è la gamba rotta non l'ho capito se c'è la gamba rotta porca miseria allora prima cosa ragazzi dobbiamo fare dobbiamo cercare di toglierci queste manette eh allora usa la nata si ok vai 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 dobbiamo andare da lui vai e mi sa che c'è la gamba rotta sto tipo innanzitutto prendiamo il fucile questa cosa è fondamentale no dove vai il fucile eccolo qua no prendilo no dai oh ah è vero che c'è la gamba rotta sembra scarico chi è il poliziotto che va in giro con il fucile scarico cioè me lo dite chi è ci credo che dopo muori c'è il fucile scarico ok è morto ha le chiavi però uh le chiavi della manetta l'ho visto ok prendiamo le chiavi ok ma che cavolo fai dai ma io non lo so ma questo è il tipo più sfortunato del mondo fa l'incidente rotta la gamba il fucile scarico gli cadono le chiavi ancora ah ok ce l'hai fatta forza forza passo passo devo farlo ok oh porca miseria che cavolo devo fare usate sinistra per allontanarti via 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 ah ecco il colpo stammi lontano prendilo 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 dov'è prendilo ok ok lì tutto tutto il tempo naturalmente abbiamo eh sì perchè uno zombie fa piano piano giustamente aspetta zombie che carico eh eh giustamente ti cade anche il coso giustamente cioè ma che mani c'ha questo i cadono le chiavi i cadono tutto ma non lo so prendi il coso oddio devo sparare sparare in testa boom mamma mia non è che ti cade per il fucile no eh è probabile ok ok ha la pelle tutta marcia eh ok che diavolo di roba è non lo so non lo so però non ci interessa sei morto sei morto è messa di sì è senza testa chiedi se sei morto uh chi è quella bambina dove vai hai io non lo so vabbè no aspettate che sento il rumore ragazzi no cosa devo fare eh 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 sì aspetta 'da dai forza 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 no è non è possibile però cioè dai non è possibile non ci credo qualche altre cosa non lo so Gli cadono i proiettili Gli cadono le cose Mamma mia Eh mi sa che è finita ragazzo per te Mi sa che è finita Mi sa che è davvero finita Dai forza Dai Ando sfortunato come sei Di là ce ne sono altri 100 Tu scavalchi? Ce ne sono altri 100 O scivoli mentre stai scavalcando No tutto ok Tutto ok Va bene così No mica lo buttano giù Cos'è? Cos'hai visto? L'albero per poter scavalcare Giustamente i zombie sono intelligenti Che prendono l'albero per scavalcare Oh no No Ho sognato io Vabbè lasciano stare Lasciano stare Comunque ragazzi Io direi che per questo episodio è tutto Io questi episodio li faccio durare 15 minuti Perché come voi sapete sto registrando con la Playstation 4 E quindi faccio fatica a fare più video insieme Uno mi ha detto Si non ci metti niente a mettere due video insieme Si è verissimo Però davvero è faticoso poi gestirli Due file, due video, due file audio Perché non è solo l'audio del Non è solo il gioco È anche l'audio della webcam L'audio della voce, del microfono Quindi è un po' un casino Preferisco farle un video di 15 minuti Anche perché secondo me I video più lunghi di 15 minuti dopo un po' annoiano Anche da parte mia Cioè io difficilmente ho visto un video Tutto quanto che sia stato più lungo di 15 minuti Forse mai visto Forse qualche video di Yotobi Delle recensioni Forse solo quelli lì Però non credo di essere come lui E quindi secondo me annoio tantissimo Dopo 15 minuti E quindi la finisco qua Quindi per questo video è tutto ragazzi 100 like se volete il prossimo episodio Noi ci vediamo al prossimo video Bella